Si trova ancora in commercio il silicone per uso? Purtroppo sì, il silicone è iniettabile, purtroppo ancora esiste attraverso vari canali, tuttavia è vietato l'uso del silicone iniettato direttamente nell'organismo umano, vietato dal Ministro della Salute, quindi è un omicidio, è come sparare un colpo di pistola addosso a una persona. Monica Leofredi, poi andiamo subito da Miriam che ha altre cose da raccontarci di questa Pamela. Milo, il dottor Di Pietro è stato chiarissimo, perché già sono decine di anni che si dice, e che diciamo noi, tu ieri hai citato l'Italia su due, ma tutti i programmi dicono che come si supera il derma è un intervetto che deve fare un medico, quindi intanto questa Pamela dobbiamo chiamarla sedicente medico, non sedicente estetista, quindi già dobbiamo dare questa connotazione. Poi c'è il discorso anche della fuga, perché tu aspetti l'ambulanza e come è stato detto aiuti i medici, quindi io non capisco per quale motivo debba essere a piedi libero, perché ora credere a tutto quello che ha detto, cioè che casualmente su internet ha preso un giorno e mezzo dopo della morte di questa donna, ma che comunque nella migliore delle ipotesi lei ha lasciato agonizzante, così ce l'ha descritta il marito, cioè per lui addirittura era già morta, quindi tu lasci una donna agonizzante e il giorno dopo, un'ora dopo, due ore dopo non chiami per sapere come sta, lo vieni a sapere da internet. Quindi io onestamente il fatto che sia a piedi libero a me stupisce moltissimo, perché veramente che cosa si deve fare? E' più, è brasiliana di origine, quindi anche il pericolo di fuga, di contatti che puoi avere, è otto anni che lei fa questo tipo di pratiche. L'ultima, la dichiarazione che abbiamo sentito della tua ospite parla di otto anni che inietta silicone liquido. Quindi quanti tentati omicidi ci sono nel corso di questi anni? Appunto lei, la signora che vediamo, è uno di questi esempi, lei ha detto io mi sento una miracolata, sono scampata a questo incredibile pericolo, perché il silicone neanche nelle labbra in piccole quantità è consentito. Purtroppo anche su internet è facile reperirlo, perché basta fare una piccola indagine e poi se tu hai elementi sicuramente avrà un complice minimo, avrà chiesto vienimi a prendere, perché poi si è deliguata nel nulla, quindi avrà chiesto aiuto anche per essere, insomma, per qualcuno che è venuto anche sotto casa. Diciamo che noi sappiamo, intanto sappiamo dov'è, perché ce lo dicono i suoi legali, se non vado errato, sarebbe a 100 nel ferrarese a casa di uno degli sponsor del concorso di bellezza dedicato al mondo trans che la Andres organizza da sempre. Quindi questo è quello che sappiamo. Lei lascia Samantha morente, va via prima di aspettare l'arrivo dei medici, ai quali avrebbe dovuto quantomeno dire ho fatto questo, 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 quindi metterli sulla strada giusta. No, lei si allontana e va a casa dallo sponsor a organizzare il suo concorso di, credo, misti trans, qualcosa del genere, adesso non lo ricordo, mi perdonerà, non lo ricordo con esattezza. Chi, insomma, ha avuto modo, Nicole Di Giulio, invece di incrociare, per fortuna di sfuggita, la strada di Pamela è la tua ospite, Miriam Morde. Miriam, di nuovo buongiorno. Sì, Miriam, appunto, ha avuto modo di salvarsi, ma Pamela faceva questi trattamenti da tempo anche a sue amiche? Beh, sì, parliamo di 7-8 anni fa, quando ancora, appunto, io ero un po' nella giovinezza ed ero una travestita, praticamente, allora avevo bisogno di investire molto sull'immagine. Però questa, cioè, io a lei la chiamerei con una piccola frase, ma non vorrei essere invadente, oppure la chiamerei Mina Vagante, questo è il mio titolo da dare a questa persona, perché poi c'è un'altra cosa, è bello. Ha messo a repentario la vita, secondo lei, di tante persone, avrebbe messo a repentario, tante amiche le hanno parlato di queste infiltrazioni, di queste iniezioni, anche ai glutei, oltre che al seno? Beh, c'era questo giro di parole ed era anche un po' conveniente per, diciamo, un fatto economico e poi veloce, una cosa veloce e snella, per cui si poteva fare comodamente veloce, no? Perché se no, altrimenti bisognava intervenire, appunto, andando sotto i ferri e poi avere dei costi alti e così. Però io, se posso dare un piccolo messaggio, eh? Prima di investire sull'immagine, bisogna usare la testa, ok? Perché se uno investe sull'immagine e si pida dei ciarlatani, delle cose, arrivo, vengo, vado, così ha fatto una brutta cosa, cioè si deve fare un po' di scuola. Io, meno male che anche sono circondata, e ho delle amicizie così normali, che questi amici o amiche che ho hanno una testa, sono, diciamo... Lei è stata in qualche modo salvata, invece a Samantha è andata diversamente, ma quando Pamela le avevano detto che sarebbe venuta con il silicone, anche lì, con una tanica di silicone, lei cosa ha pensato con questo litro di silicone? Beh, questa, appunto, questa conoscente brasiliana che, appunto, mi aveva fatto questa proposta, che io ero le prime armi, perché ero una travestita, travestita a trans, c'è un lungo percorso, eh? Poi il nome trans sembra, diciamo, piccolo, ma il percorso è tanto lungo. E disse, guarda, vieni a casa, ti fa questo litro di silicone, diviso in due parti, è così. Però, però, io lo definirei un pochettino come dire, vengo là e ti sparo in testa, uguale. Posso chiedere una cosa a Samantha? Prego, dottoressa Viola. Posso chiederle se lei sapeva, perché i medici, quando fanno delle protesi al seno, e le facevano anche col silicone, le parlo di vent'anni fa, sapevate voi che la protesi al silicone non è silicone libero iniettato nel seno, ma è in un contenitore che, tra l'altro, garantisce la forma e poi isola il corpo dal silicone. Lei lo sapeva la differenza tra una protesi al silicone e le iniezioni di silicone nel seno? Beh, guardi, è come una flebo, praticamente, non sono siringhe o cose. Io adesso, diciamo, come tecniche, no. Però, diciamo che, a forza di essere un po' mazzuchista di me stessa, perché lo sono, ho 64 anni e ancora non ho finito, perché devo fare vari interventi faciali, perché ancora non mi arrendo, che molti mi dicono Miriam, hai 64 anni, rimani come sei. Purtroppo no, perché io sono nata con questa voglia di essere più donna possibile. Ma lei lo sapeva all'epoca, otto anni fa, quando, diciamo, lei era alle prime armi, lei sapeva le differenze fra la protesi al silicone e queste iniezioni di silicone? Ecco, purtroppo no, perché ero, diciamo, come dicevo, ai primi passi. La fragilità. Quando, giustamente, sei una travestita, non sei nell'ambiente, non conosci nessuno, io, non è per ripetermi, se non avevo quella mia amica trans, che aveva una lunga scuola, una lunga esperienza, io potevo combinarli di tutti i colori, ma negativi però. Poteva finire al posto di Samantha, lei adesso ci ha ripensato a quel giorno di otto anni fa? Sì, allora, io, diciamo, metto la mia faccia, la mia presenza, perché mi fa ricordare un po' il passato, dei sette anni, otto anni, diciamo, che è successo questa cosa che dovevo fare. Ed è stato un po' così, un miracolo, si può dire. E voglio precisare anche una cosa, bisogna un pochettino circondarsi da amici, da gente, che un pochettino ti aiuta a fare delle ricerche, delle cose. Per esempio, faccio un piccolo esempio, posso farlo? Sì, aspetti, aspetti.